lo sport in collaborazione con dai più valore alla tua casa fiagli pegaso i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio una grande esposizione per arredare con mobili di qualità prezzi imbattibili e in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi 9 alessandria visita il sito pegasomobili.it Matteo Gatto parte alla conquista dell'oceania dopo aver esplorato l'asia nel 2012 e 2014 con il viaggio in mountain bike in india tibet e nepal si è dedicato alle americhe con l'esperienza maturata nel 2016 in patagonia e all'europa con il social ride senigalli alessandria nel 2016 quest'anno la bussola indica un continente nuovo una meta esotica e affascinante tra le più remote e misteriose del nostro pianeta la papua nuova guinea il viaggio inizierà dal centro dell'isola da mount hagen alla volta del monte willem la massima vetta dell'oceania con i suoi 4.506 metri d'altezza a un primo tragitto in mountain bike con l'attitudine di circa 2.800 metri seguirà una parte di trekking per raggiungere la destinazione e conquistare un altro bel risultato al centro di tutto l'isola ma non solo mi sta molto a cuore documentare la purezza e l'integrità dell'ambiente oltre alle particolari etnie che popolano l'isola commenta il fisioterapista alessandrino matteo gatto tra l'altro questa iniziativa ci consentirà di creare a rientro una serie di eventi in cui poter rendere la testimonianza dei valori e dei principi alla base dell'impresa umana prima ancora che sportiva preparazione costanza impegno empatia determinazione sono tutti punti cardine da cui non si può prescindere nella programmazione di un simile viaggio e sappiamo che gli alessandrini che hanno già dimostrato affetto e partecipazione nel corso dei resoconti presentati in passato ad esempio quello realizzato con you aid sono stati felici di farsi raccontare una bella avventura ma non è tutto le presentazioni avranno anche l'obiettivo benefico di raccogliere fondi a favore di adozione a chilometri zero progetto promosso dal comitato colibri a sostegno di bambini fino a sei anni provenienti da famiglie in difficoltà economica residenti nell'area della provincia di alessandria il viaggio del 2017 sarà in papo nuova guinea è praticamente la naturale e il naturale proseguimento di questa serie di viaggi che ho fatto a partire dal 2012 i primi due sono stati in asia il terzo è stato in in america latina abbiamo poi fatto l'europa facendo dal senegale ad alessandria è arrivato quindi il naturale momento di proseguire con i continenti quest'anno 2017 il 14 agosto partirò per l'oceania in precisione in papo a nuova guinea volendo fare volendo raggiungere la vetta del monte we helm che è il summit cioè la vetta più alta dell'oceania tentando di raggiungerla il più possibile in mountain bike quando non sarà più possibile pedalare scenderò dalla bici e continuerò a piedi per il tentativo di ascesa alla vetta del monte we helm che è 4.506 metri partirò al 14 agosto lo farò con una mountain bike e ho avuto altre esperienze di viaggi in in india tibet e nepal e appunto poi la patagonia con il cile e l'argentina il tutto questo con una motivazione particolare ho sempre avuto come parter uaid che si occupa di cooperazione in africa ma questa volta ho voluto unirmi a un progetto totalmente alessandrino che si chiama adozione chilometri zero che è in sostegno di famiglie spesso monogenitoriali in difficoltà economica pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi nove alessandria visita il sito pegasomobili.it il meteo in collaborazione con dai più valore alla tua casa scegli pegaso i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio una grande esposizione per arredare con mobili di qualità prezzi imbattibili e in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi nove alessandria visita il sito pegasomobili.it avete sentito la notizia il circolo la familiare in viale massobrio 24 ad alessandria ha riaperto la stagione estiva di ballo tutti i sabati e tutte le domeniche si balla il liscio in compagnia di buona musica con dj e orchestra spettacolo da non perdere sabato 5 agosto dopo il successo ottenuto nei nostri locali ritorna l'orchestra stefano e la band italiana vi aspettiamo nella rinnovata struttura del circolo la familiare di alessandria promettiamo puro divertimento e tutta la nostra capacità di accogliervi in un ambiente sereno curato e suggestivo per farvi trascorrere serate uniche a vostra disposizione un perfetto servizio bar ed un ottimo ristorante per scoprire i piatti tipici e le specialità del territorio circolo la familiare in viale massobrio 24 ad alessandria un inesauribile giacimento di musica con dj e di liscio con grandi orchestre il parco acquatico lavagello di castelletto d'orba vi aspetta dal lunedì al sabato dalle ore 9 30 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 19 per informazioni 0143 8 3 0 6 9 1 www punto lavagello punto it info chiocciola lavagello punto it